Diocesi di Andria, oggi 22 maggio, tradizionale processione per la Madonna dell'Alto Mare, il rito religioso partirà alle 18. Quest'anno è il 22 maggio, il giorno della processione della Madonna dell'Alto Mare, che partirà alle 18 dal santuario ed arriverà fino in centro, dunque un momento di preghiera che coinvolge la città intera. Questo è l'itinerario della processione di oggi, 22 maggio. Dal santuario percorrerà via San Vito, poi via Imperatore Augusto, via Regolo, via Cincinnato, via Traiano, via Don Riccardo Lotti, via Annunziata, via Orsini, via Poli, via Alto Adige, via Leistria, via Duca di Genova, via Regina Margherita in centro, piazza Embriani, via De Gasperi, via Bovio, piazza Umberto I, via Timonelli, Pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Carmine e infine piazza Alto Mare. Questo invece è il programma per domani, 23 maggio, un giorno dedicato al ringraziamento sui passi dell'esultanza. Ci saranno messe alle ore 6.30, alle 8, alle 9.30 e alle 11. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, è previsto un momento di preghiera con gli ospiti della RSA L1 in via Carpaccio. Alle ore 16.30 ci sarà una processione verso l'ospedale Bonomo di Andria, dove verrà celebrata la messa per gli ammalati. Alle ore 20 ci sarà una celebrazione conclusiva in oratorio.